La Giunta regionale ha attivato una linea d'intervento per la ripartenza delle marche. A disposizione ci sono anche 540.000 euro che verranno assegnati, una tantum, agli apicoltori richiedenti, con un minimo di 50 arni e censite alla banca dati, contributi a fondo perduto fino a un massimo di 30.000 euro a impresa, per i quali non sono previsti criteri di selezione delle domande. Una misura di aiuto fortemente richiesta e attesa dal mondo dell'apicoltura professionale, a cui viene garantita così una liquidità aziendale come è avvenuto per gli altri settori produttivi. Esprimono soddisfazione i quattro consorsi marchigiani. Purtroppo, per fortuna, c'è già un precedente che è stato nell'anno 2019, dove abbiamo avuto delle condizioni di produzione simili, purtroppo, a quelle di quest'anno, e dove, per fortuna, la Regione si è impegnata, anche lì, forse per la prima volta in modo pionieristico, in Italia, a riconoscere in qualche modo un contributo al settore. E a quanto ammontano le perdite subite? Stiamo ancora stimando, ma ci arrivano notizie, poi certificato dall'Osservatorio Nazionale del Miele, piuttosto che dall'ISMEA, le Marche hanno perso circa l'80% della produzione complessiva, quindi primaverile e estiva di tutta l'annata, fondamentalmente. Quanti sono gli apicoltori? Attualmente gli apicoltori associati ai consorzi apistici della Regione Marche sono 2200-2300 all'incirca, ci sono alcuni non associati, ma diciamo che all'80% rappresentiamo quello che è il settore marchigiano, quindi sono questi numeri nostri, diciamo. Oltre alla pandemia hanno contribuito anche le condizioni meteoverse dei mesi scorsi? E purtroppo, come tutti noi notiamo, le stagioni si sono piuttosto invertite, o comunque hanno cambiato molto il loro corso, e basti fare un esempio. Siamo partiti con degli inverni molto caldi, delle primavere fredde e piovose, e delle estati eccessivamente siccitose, il che ha portato su un insetto come l'ape, che non solo per la sopravvivenza, nel caso nostro anche per la produzione, ha portato dei danni enormi, perché non ci sono più, diciamo, le condizioni per favorire la crescita delle famiglie, lo sviluppo e quindi di conseguenza anche la produzione. E ora che cosa significa per voi poter usufruire di questo contributo? Diciamo che la Regione, per fortuna, ancora una volta, grazie ai suoi amministratori, sensibile alle nostre problematiche, tra cui citiamo chiaramente l'assessorato regionale, l'assessor Mirko Carloni, piuttosto anche che il consigliere Giacomo Rossi, che si è adoperato notoriamente anche molto sul territorio per quanto riguarda il contesto rurale, hanno avuto la giusta sensibilità, riuscendo di nuovo a accantonare dei fondi in bilancio regionale, quindi dal proprio bilancio, da destinare poi al settore. Questi fondi, questo chiamiamolo ristoro parziale, va a favorire le condizioni per continuare l'attività, perché le perdite sono nettamente superiori a quello che sarà il ristoro, però consente un minimo di liquidità in un momento difficilissimo, come questo della pandemia, tra l'altro che ha portato dei grossi svantaggi, delle grosse limitazioni sul commercio, per lo meno a superare questa fase e permettere di rilanciare gli allevamenti, quindi le aziende che altrimenti chiuderebbero.